ormai quasi come gli altri, in cui però... Si, che si metta lo stipendio e che rifiuti i soldi, però va bene. No, no, ma non su quel piano, diciamo, siete un partito come gli altri, a cui però manca una leadership, perché oggi c'è un reggente che è Crimi, manca una leadership e gli mancano anche i luoghi in cui prendere le decisioni. Cioè, voi fate spesso appello, saltuariamente, alla piattaforma Rousseau per prendere, come dire, le grandi decisioni, ma vi manca un leader e vi mancano dei luoghi, delle assemblee, dei momenti in cui il partito si confronta e decide. Quindi è una situazione un po' particolare la vostra. È vero o no? Allora, la prima cosa che mi viene da risponderti è io prediligo le azioni che facciamo rispetto a chiacchierare delle cose interne, ma serve comunque perché è giusto dibattere anche di organizzazioni e di interno. Chi è il leader oggi? Allora, oggi noi abbiamo Vito Crimi, che è il nostro reggente. Tra poco partirà l'elezione della nuova governance, che sarà o individuale oppure collegiale. Dopodiché partirà l'organizzazione. Però quello che mi piacerebbe dire è che cosa non abbiamo rispettato del programma elettorale. Lo stesso taglio dei parlamentari era uno dei punti all'interno del nostro programma elettorale. Lo stiamo mantenendo. Se voi, io spero che voi andate a leggere, tra pochi giorni verrà approvato il decreto semplificazione. C'è una parte, che è una delle 5 stelle del Movimento 5 Stelle, che è la connettività internet. C'è un passaggio fatto dalla Ministra D'Adone e dalla Ministra Pisano, che è di straordinaria importanza rivoluzionaria, che genera l'interoperabilità, e mitaccio, di tutti i dati delle decine di migliaia di banche pubbliche, di banche dati pubbliche. Avete derogato a molti dei principi fondanti del vostro Movimento. Per carità, todo cambia e tutti si evolvono, e meno male. Però rispetto al Movimento avete cambiato, come dire, molto del vostro... Sì, è un'evoluzione, ci chiamiamo anche Movimento per quello. Però, allora, abbiamo rifiutato 110 milioni di euro e credimi che fare politica praticamente gratuitamente significa avere un approccio completamente diverso. Lo strumento di Rousseau per le votazioni di faccende importanti, come le scelte delle persone o le scelte dei programmi, è un qualche cosa che ci permette di farlo praticamente gratuitamente. Oggi è in corso una riorganizzazione perché ci siamo accorti che tantissimi di noi sono impegnati o al governo o in Parlamento. E avendo tutte le forze dedicate lì, molto spesso i territori, non avendo i soldi per creare le strutture, uffici, personale pagato, amministrativo, come hanno tutti i partiti, si disperdono queste energie, questa riorganizzazione, servirà a rimettere insieme tutte le grandi energie che arrivano dai territori. Quale dovrebbe bene lei come leader del Movimento 5 Stelle? Lo scelgo, gli iscritti, Palenzo, lo scelgono. Ma l'iscritto a Torinelli, chi vorrebbe dire? Ma io non devo assolutamente condizionare le scelte. Ma da che condiziona? Lei potrebbe essere un buon leader, uno vale in uno, Torinelli vale uno. Allora, io non voglio assolutamente parlare del sottoscritto. Quando si apriranno le votazioni, ci si candiderà, uno si presenterà, non voglio parlare del sottoscritto perché non è il nome. Ma perché? Che c'è di male? No, ma non ho nessun interesse a parlare. Cioè lei ha paura di dire che si può candidare? No, io non ho nessuna paura. Io dico che per me è un po' di organizzativo importante, che faremo a breve. Poi vedrete, perché parlarne prima di farlo? È giusto che Casaleggio, cioè un'azienda privata, detenga il marchio e il rousseau? Questo è un altro falso problema, nel senso che se Casaleggio... È un'azienda privata? No, non lo so, però ragioniamo. Allora, se Casaleggio fosse... Se a me si vuole presentare... Come dire, Berlusconi... Poi Polinari c'è... No, c'è ancora, sì.